Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e nel studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete autostradale toscana, ancora chiusa invece in entrambe le direzioni la statale 12 della Cisa a causa di un incidente avvenuto nelle comuni di Aulla. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori restringimento e scambio di carreggiata tra San Casciano e Firenze in Pluneta in direzione Firenze. Si ricorda che sulla statale 3 bis Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto, è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. Firenze è attivo da ieri e lo sarà per i prossimi 15 giorni il preesercizio della linea 2 della tramvia per la simulazione del futuro servizio tra unità e preto l'aeroporto. Chiudiamo con i treni, l'Intercity 596 Napoli-Milano viaggia con 36 minuti di ritardo ferma a Firenze di Fredi alle 20.12. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, buon viaggio!